oh mamma mia che brutto atterraggio io la prendo qua, tu la prendi ai manubri come rubare la benzina agli altri beh non fare brillante, devi portare da piedi eccoci arrivati alla Classic Bike però il tempo non è mai clemente oggi forse tiene fino alla fine dell'evento buona gente siamo pronti 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 per la Classic Bike alla grande sono già tutti partiti ma anche solo noi siamo gli ultimi c'è la traccia qua no? ciao 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 briefing scambio di opinioni quindi si va su al forte e poi si scavalla si ma non si va giù dalla vecchia militare vediamoci perchè quella è vietata si viene sopra le cave le terre rosse comunque il terreno è così quei sassoni con i gradoni si è così poi si riprende poi riprende la straccia grazie mille quindi a te grazie ti posso rubare? allora ti senti che faccio la magnetica questa è la mia prima classica facile bella completamente diversa completamente diversa perchè ha paesaggi completamente diversi e soprattutto perchè ci si ferma nella più bella cantina della Valdadisi che è quella di Alvino Armani sponsor di Infanti 4 molto importante c'è Franco c'è Franco non è partito è arrivato con Infanti 4 e mezzo non quello da Cariano ma quello da Enduro e c'è anche Niccolò Pietribiasi oggi abbiamo Charlie Brown patron della GM Motori Speedway nonché campione italiano di Speedway abbiamo Umberto Borile artigiano della moto non vedo nessuno non vedo nessuno avremo belle sorprete è perchè sono tutti po' camuffati da moto tigressi a dopo che bel tuo Areg che bella 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 bro bella bella si comincia oh, si è un po' freddo scadiamoci comunque non so se c'è una traccia ma è un... guarda qua la traccia come cazzo ci capisci qua? 7, il tuo amico ha 7 no? 8, il tuo 56 un cappone bello si si bellissimo di tutto i bambini poi vediamo mi senti ancora? mi ha mangiato tutto un sacco di sassi questi si siamo in tanti il posto qua è favoloso che vista che bello guarda lassù il monastero il castellino mamma mia che brutto atterraggio guarda che ti sei giocato un jolly te mamma mia ciao Marcello come è successo? come è successo? si è ammazzato qualcuno? si è fatto male qualcuno? ah c'è un... che figo che figo adesso se c'è la fronte proprio tagliata poverino eh si l'ha sbalzato indietro guarda quello vai 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 così ti becchia anche te un... un bel cavo il vino Armani che spettacolo andiamo a degustare il vino buono dato che bisogna andare in moto ma mangiare anche bene bene entriamo dentro facciamo una bella visita all'Armani Fabri ciak evviva salute i baber numerosi e qui appunto bravo il vino che ci ha colpizzato e ci va a assaggiare il suo vino e... che dire io ci sono passato anni di settimana a fare un rifornimento quindi se mi interessa e... che dire giornata bellissima bravo posso dire Marcello organizzare perché oggi come oggi è difficile organizzare e bene qualche piccolo intorno adesso stavamo giusto discutendo un giro di ferro però un amico troppo alto una guida da deserto da dune e invece qui dentro le vigne ha toccato lì ha un po' di attenzione come in tutte le cose che non sai preparare attenzione perché anche se la stala sia aperta al pubblico dopo ci sono a piedi o in bicicletta o un po' e via magari la cosa migliore è salutarli rallentare un bel saluto e via perché se vogliamo esserci ancora a farli ancora bisogna trattare comunque già per il resto beh un bicchiere di vino non fa male ma insomma attenzione non esagerate e... che dire davanti alla prossima dai motoroni io al minimo vado su ducati oh traversone aia che sassate che mi ha tirato è il cilindrico quando apre apre ancora che cazzo ho capito ho capito però se mi incordo come faccio a stare distante c'è 15.000 persone dietro adesso mi fermo a dare una mano io la prendo qua tu la prendi a manubrio dai qua un due tre vai ok eh proprio in mezzo vai Robiii anzi oh che tira vai vai oh troppo però è è un io i Allarga, allarga! Allarga, basta! Allarga, basta! Allarga! 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 Bel lavoro! Alla vita mi faccio di qua! E mi faccio di qua! Ma era uguale! Testa! Perchè mi dice sinistra! Proviamo ad andare a sinistra! Ah si! E' uguale! Go! Cosa? Che cosa? Le mandi giù di qua ai bicilindrici! Sono pazzi! Sono pazzi! Ah ah! Manno di qua ai bicilindrici! Ah ah ah! Quante cadute! No tavis! E' uguale! Orca vacca, impegnativo Sono fermato a cambiare la batteria verso il case del contenitore da GoPro Non è lì, l'avventura è finita Siamo arrivati, abbiamo fatto un ultimo pezzo di 30 km circa Forse anche di più Della traccia mono che era stupenda Molto meglio da bicilindrica Non mi sarei divertito uguale Avete visto qualche pezzo Quindi capirete che in quel frangente avere un mono cilindrico Era 100 volte più divertente che un bicilindrico Eccolo qua, Marcello siamo arrivati Ciao Marcello ti ho fatto Ma c'era un ingorgo là dove ti ho fatto vedere la punta Si vede che qualcuno si è piantato Sui mono non era facile Ecco il pezzettino, tutti smosso Poi qualcuno ci tira, muove un po' di piss Però l'ultimo pezzo di venire giù qua Quei 20 km Tutto fuoristrada Sì sì, bello eh Guarda Franco ormai sei riducibile Ospite speciali sempre di questo hermano Ciao, grazie Ciao, ciao, ciao Marcello ormai qua sempre No, soddisfazione Vedi qua fra far foto e chiacchierare Tutti vuol dire che tutti seguono come ho fatto dalla camera Perché non è che mi vengono chiedere come è andata Sanno già tutto Gli informazioni girano e la gente mi segue Quindi queste sono anche delle belle soddisfazioni A parte il giro che è sempre buono Girare in moto Salutare E' stata una bellissima domenica Un bel giro e tutto Traccia mona è fatto Sì 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 L'ultimo 30 km è strettacolare L'ultima in salita ma anche quella in discena è stata bella tosta E non l'ho fatta E no per dico buono per tenersi in movimento Fa solo che il bene La Dakar ma tutti mi stanno chiedendo per la Dakar prossima Che non so ancora decidere che potrebbe anche essere di non farla Però di restare nel giro Per il momento però faccio le varie cavalcate Questa ce ne sarà una da Maranello-Mugello La prossima è l'Aula Questa è la 28 maggio Perché adesso La settimana prossima si vince Sul Cis Sul Cis No ce n'è Ma basta saperlo perché Non esiste un calendario E' solo un passaparola Ma queste qua sono belle manifestazioni Va benissimo Adesso L'ultimo è parlare solo di Dakar Anzi C'è più gente e più soddisfazione si vede Si mangia bene E si mangia bene Grazie Prego Ciao Dimentichiamoci gli attestati Marzotto Giuseppe Borile Umberto Pietro Vazio Niccolò Picco Pantla Ammai Lino Peschiera Vai qua Stai attento Questo banchetto Il nostro mitico Pluricampione Franco Picco Bravo Marcello Innanzitutto bravo Perché oggi Beh bravi Ok bravi perché organizzare oggi come oggi Organizzare si capisce che è complicato Difficile Dobbiamo partire per il tempo Avere tutti i permessi Le varie cose E mi ricordo che in qualche edizione passata Avevamo trovato proprio anche qualche personaggio Che ci bloccava Invece c'è stato forse un punto oggi Ma una cavoleata Era proprio un passaggino Infatti abbiamo fatto 100 metri più di asfalto E via Quindi bravo Complimenti E i risultati pensi Li vedi anche a te Perché la presenza La partecipazione È sempre ben cospicua Basta riuscire a organizzare Oggi come oggi È più È più quello Il problema di lato organizzativo Per il resto Boh Sei riuscito anche a organizzare La pioggia giusta Ne è poca Ne è tanta Non dato la madonna E la colonna Il bellegriaggio Ci siamo passati Quindi giusta giusta Che l'attimino di difficoltà ci vuole Quindi fa piacere E per il resto Buono Insomma La giornata splendida E via Il mangiare qua Anche Vedono Non penso Ci siamo lamentati Abbiamo mangiato e bevuto La signora Fiorangela Quella signora bionda In fondo Signora Fiorangela Stanno facendo i complimenti Per la cucina E quindi penso Che ormai È diventata Una bella classica Che si fa fatica Anche a Non solo stare attenti I calendari Da non Combinarli Da non combinarli Con altre Con altre Cose Diciamo Importanti E tutto Ma se no Per il resto Bravo Complimenti Tieniti bene D'accordo Con questi Come si può dire I sindaci Che sono quelli Assolutamente I personaggi Pi' importanti E Non so se Umberto Ciao E non so se Se domani Li rimari Ripassare Per mettere a posto Qualche sentiero Qualcosa Che è meglio farle Non pensare Di fregarsene Fatta e fatta Perché È buono Per poterci Per poterci Ritrovare Ancora insieme Tutti Quindi Per il resto Che dire Adesso c'è qua Anche Umberto Com'è andato Umberto Bene Qualtiro Ma no Charlie Charlie No Charlie Charlie Chi si vede Guardi La piazza La piazza Dove vi arrivare Allora Il Marzotto Giuseppe Marzotto Bene Allora Io vorrei pregare Elisa Rovizi Che è la nostra Mascotte Nonché la ragazza Che ha partecipato A tutte le edizioni Della Magnifica E della Classica Lei ha a lei Il privilegio Di consegnarti La nostra targa Ricordo E il vino Che è il vino Che è il vino del grandissimo Alvino Armani Il nostro sponsor Unico Invitarei qui È l'uomo avventura A 360 gradi Perché lui A parte le sue radici Vitivinicole Che avete visto L'avete apprezzato Nella sua cantina Oltre ad essere un signore Con una laurea importante È anche Un viaggiatore Che ha girato Tutto il mondo Bella Non tutto Perché ne sta ancora facendo E ne sta completando E quindi No bravo Innanzitutto Un amico Un amico Motociclista Appassionato Di queste cose Io l'ho trovato Che è venuto A trovarmi E l'ho accompagnato L'ho portato A fare i viaggi E abbiamo fatto Fra Egitto Argentina Oman Le abbiamo fatte tutte Lui Quando non lo tengo d'occhio Parte In Groenlandia Adesso è andato Con le motocicliste L'Apponia Sì Quindi le fa tutte Ecco So che ne ho fatto Un altro Adesso Un paese Che è difficile Anche Menzionare Qui si chiama Tajikistan Difficile Spero Ha trovato Che Cristo Quindi bravo Alvino Grazie 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 L'ospitalità E le sorprese Esatto Voglio dire Due parole Dai No dopo Dopo le parole Di Franco E di Marcello Io non ho niente A dirvi Quindi vi ringrazio tantissimo Io sarò sempre con voi Perché è una manifestazione importante Oltre che per me Consistente È una manifestazione molto importante Questa Ci tengo a dirlo Quindi il lavoro di Marcello Di Franco Quest'anno Anzi sempre Franco La mia partecipazione È entusiasta È un'ottima cosa 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 Perché portare tutte queste persone Dopo Non è finito qui Una volta che ha messo Gli stivali Erano un'ottima cosa È un'ottima cosa È un'ottima cosa È un'ottima cosa È un'ottima cosa Grazie a tutti Grazie a Marcello Aimo Sono sempre ospitalissimi Per cui Niente da dire È un'ottima cosa È un'ottima cosa È un'ottima cosa È un'ottima cosa quindi è andata brava bravi tutti ci vediamo l'anno prossimo a chiusura ragazzi vi ringrazio tutti di nuovo vi diamo l'appuntamento ad ottobre l'otto ottobre per la magnifica chi vorrà esserci sapete che è tutto un altro giro è tutta un'altra avventura